Cari amici, oggi vi parliamo della miglior soluzione, la più bella, la più elegante, la più robusta per ospitare i nostri amici componenti i-Fi. Ebbene sì, cari amici, bentornati in i-Fi Club, il club dell'altra fedeltà. Sono Fabrizio ed oggi, come d'introduzione, vi presentiamo un nuovissimo sistema, in realtà è un mobiletto, ma è un nuovissimo sistema per alloggiare i nostri componenti i-Fi. Parliamo di Nordstone, come da canzone di Sant'Anao e Como va, oggi vi parlo del Como. Como è l'ultima realizzazione della Nordstone Design, brand francese che da oltre 20 anni realizza soluzioni caratterizzate dall'ottimo design e dal fantastico rapporto qualità-prezzo. Ricordiamo su tutti gli stilum, piedistalli fra i più venduti in assoluto, i mobili della serie S e i mobili modulari e i primi modelli per alta fedeltà dal ragionevole rapporto qualità-prezzo. Bergen 2, Stable, Hi-Fi su tutti. Nell'andare avanti, nella ricerca di soluzioni sempre più performanti ed utili, ma soprattutto comode, perché ricordiamo il supporto per i nostri componenti deve essere soprattutto pratico, robusto, comodo per alloggiare gli stessi, per poter in maniera molto semplice, pratica, poter operare sulla parte posteriore, ma soprattutto anche poterli pulire. Bene, in questa spasmodica ricerca dei nostri amici francesi, la linea si è arricchita man mano con modelli modulari. Primo su tutti il modello Spider, un ottimo best-seller, soprattutto dal punto di vista delle vendite e del successo del pubblico. Adesso è stato aggiunto, ultima realizzazione appunto, il modello Como. Como perché in primis è un modello che è raffinato nell'estetica, è sostanza pura dal punto di vista della struttura, della robustezza e poi è molto pratico e molto ampio nelle dimensioni. Il Como è suddiviso in quattro modelli, sono modelli singoli, sono singoli ripiani che possono essere acquistati appunto individualmente a seconda delle proprie esigenze. Si parte dal Como base, poi c'è il Como 1, Como 2 e Como 3. Li vediamo qui tutti impilati in una soluzione classica, la classica soluzione quattro ripiani che è un po' nell'iconografia dell'alta fedeltà. Partiamo dal basso, troviamo il Como base che lascia di spazio dal pavimento esattamente 10 cm di luce, questo può essere comodo per effettuare pulizie per esempio al di sotto del mobile. Il primo ripiano che troviamo dal basso in realtà è il Como 3 che è il più alto e il più alto in quanto ha di luce in altezza ben 28 cm, ideale per alloggiare anche amplificatori molto grandi, elettroniche di alto livello o perché no, magari anche più componenti uno sull'altro. Dopo, eccolo qui, il Como 2. Il Como 2 ha un'altezza utile di 18 cm, una luce di 18 cm che permette di alloggiare anche in questo caso anche amplificazioni, compat disk, streamer, qualsiasi oggetto che appunto abbia questo spessore. Poi il Como 1, eccolo qui, è il top, l'abbiamo messo in alto, abbiamo 15 cm di spazio utile, dopodiché al di sopra di esso possiamo poggiare giradischi, abbiamo tanto spazio. La cosa importante del Como, è in primis la struttura, ovvero i pilastri sono realizzati in acciaio inossidabile, torniti dal pieno e vi posso garantire che sono pesantissimi, sono molto raffinati, molto ben rifiniti, quindi danno anche un senso di preziosità all'oggetto, soprattutto poi sono semplici da montare perché come vedrete nei tutorial che realizziamo appunto per l'assemblaggio dei mobili nostri e degli accessori, è molto semplice, basta inserire il pilastro, chiudere con il serraggio superiore e a quel punto la cosa è fatta. Si avvita la punta, punta che è regolabile e poi la punta stessa alloggerà sulla sottopunta, che è un invito ovviamente del ripiano inferiore. Oltre questo, di importante il Como ha una particolarità, le dimensioni. Stiamo parlando di 69 cm di larghezza per 60 cm di profondità, con una luce fra i pilastri, che è la cosa più importante perché dobbiamo far passare i nostri componenti, di ben 47 cm. Ci mettiamo di tutto, qualsiasi amplificatore, qualsiasi elettronica può essere alloggiata all'interno. Dopodiché il peso supportabile, il peso che ogni ripiano può supportare è ben 50 kg, in quanto la struttura del ripiano in MDF ad alta densità, tra l'altro rivestito in pelle, con una bellissima cucitura. E tutto questo garantisce non solo preziosità all'oggetto, ma anche un bell'impatto estetico e anche permette di alloggiare i componenti, evitando che possano scivolare tipicamente come accade sui ripiani in vetro, ad esempio. Come accennato prima, ma come si evince dal mobile stesso? In realtà parliamo di un mobile componibile che può essere scelto individualmente nei singoli ripiani e può essere assemblato a seconda delle proprie individuali esigenze. Quindi possiamo, abbiamo l'esigenza di poggiare due grandi finali monofonici a terra, possiamo utilizzare per esempio due basi, oppure vogliamo semplicemente utilizzare la base e poi metterci sopra un preamplificatore per un grande finale, possiamo prendere una combinazione di base e Como 3. Quindi qualsiasi, anche la successione dei piani, quindi mettere il più alto sopra e il più basso sotto. Quindi la comodità e la versatilità fanno del Como un oggetto davvero utile e pratico per le nostre esigenze. Como è destinato a chi vuole un mobile bello da inserire in ambiente, che non sia il solito oggetto di ferro, magari brutto da vedersi, che abbia una caratteristica acustica di assorbimento di buon livello. Ripeto, parliamo di pilastri da 50 mm di diametro torniti dal pieno pesantissimi in acciaio inossidabile, che permette un ottimo scarico a terra ed un'ottima insensibilità del ritorno di vibrazioni dal pavimento. E poi un ripiano in MDF che smorzando per bene le vibrazioni permette di rendere il nostro sistema abbastanza distaccato dalle interferenze, vedi vibrazioni, che possono tornare dal pavimento. Non solo, riesce tranquillamente e con un buon risultato anche a smorzare quelle che sono le vibrazioni ambientali, ovvero tutta quella che è la massa di energia che ovviamente attraverso l'aria invade, investe i ripiani e quindi essi sono soggetti a movimenti e vibrazioni. In questo caso questi ripiani uniti alla struttura e alla geometria dei pilastri permette una buona insensibilità. Quindi se avete componenti di alto livello, ma se avete soprattutto componenti anche grandi o non sapete quale può essere il progredire del vostro impianto, come è la soluzione ideale? Vediamo brevemente qual è l'impegno economico, il costo dei vari componenti. In base al ripiano prescelto si va dai 380 euro circa fino ai 550 per il modello più grande. Bene, vi invito a questo punto a surfare iFight Club e vedere il nostro sito quindi e vedere, approfondire sulla pagina Norton magari anche qualche immagine, qualche lifestyle, qualche bella ambientazione per rendervi conto di quanto elegante, bello e prezioso sia il modello Como di Norton. Bene, a questo punto che dire, mi raccomando tanta musica e sicuramente una volta che l'avrete comprato vi invito a guardare il tutorial per vedere come assemblare il Como di Norton. Mi raccomando un'ora e mezza di musica al giorno per lavare via le tossine dello stress della vita moderna e al prossimo video dall'iFight Club. Ciao a tutti!